Prima partita, primo furto, ecco lo scandalo del fotogramma del fuorigioco. Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È successo davvero di tutto ieri nella partita arbitrata da Feliciani che in tutti i modi ha cercato di portare la vittoria per la squadra di città laggiù ma non c'è riuscito. Andiamo a vedere anche che cosa sono riusciti a fare al VAR perché la truffa del fotogramma anche quest'anno parte alla grande. Io ve l'ho detto nel video di ieri, qualcosa che non quadrava c'era siamo andati a fare una piccola ricerca, siamo andati a spulciare le immagini della partita è quello che è venuto fuori ragazzi, ha dell'incredibile. Prima partita, primo possibile, furto da parte della squadra campione d'Italia in questo sport. Stiamo parlando attualmente di Genoa e Inter, della partita finita 2-2 ma che, attenzione, doveva finire in un'altra maniera. I giornali giustamente non ce lo raccontano, anzi, c'è chi dice non voglio credere ad un complotto perché altrimenti, anche su questo, daremo una bella risposta a tutti questi personaggi che non vogliono aprire gli occhi. Come sempre vi invito a mettere un bel like e aspettare la fine di questo contenuto per commentare con il vostro pensiero. Ragazzi, le immagini che vi porto sono incredibili e dovete condividerle a manetta perché già da adesso, già dalla prima partita, hanno iniziato. Sembra poco, sembra niente. Anche io, sinceramente, ieri non mi ero accorto di tutte queste cose guardando la partita ma poi andandole a rivedere, piano piano, andando a spulciare i fotogrammi come fanno loro ebbè, c'è qualcosa che non quaglia proprio. C'è qualcosa che non quaglia proprio. Allora, visto che sono stato uno dei primi a portarvi la denuncia del fotogramma fasullo mi sembra che sia giusto che sia uno dei primi a raccontarvi, a spiegarvi per bene come hanno scelto quel fotogramma, anziché un altro. Il fotogramma scelto è stato proprio questo qui. Vedete la gamba di Turam va verso, il piede di Turam va verso l'interno mentre quella del giocatore della Genoa va verso l'esterno ma in realtà non sono andate proprio così. E poi dobbiamo parlare anche di un'altra cosa perché il rigore dato al Genoa a fine partita rischiava di non essere dato nonostante il fatto che l'arbitro Feliciani avesse visto già tutto in diretta. Però, facciamo così, se mi chiamano al VAR io ci vado del rigore. Se non mi chiamano al VAR, se magari succede qualcosa durante il gioco che poi porta il VAR a non poter più intervenire e allora non è più colpa mia. Vi ricordate l'anno scorso e allora ragazzi sedetevi comodi una bella tazza di caffè una di calmante, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati perché quest'anno ragazzi ne racconteremo e ne vedremo di tutti i colori. Partiamo perché da quel fotogramma io vi posso dire che l'hanno preso da qui questo esatto momento. Solo che però il pallone ancora Barella e Barella Frattesi non lo aveva toccato. Guardate le gambe dei giocatori, guardate Turam qui, guardate il difensore è uguale e identica a questa qua, la vedete? Uguale e identica. Solo che, ripeto, il pallone non era ancora stato toccato. Andiamo a vedere invece qual è l'immagine reale dove il pallone è stato toccato, perché vi ricordate in quel famoso Juventus dove hanno annullato il gol a Ken dove dicevano ma se uso questo fotogramma è buono, se uso quello del sistema è fuori gioco. Ve lo ricordate? Era questo. Adesso ve lo metto e lo rimpicciolisco così almeno lo potete vedere tutti. Vedete? Questo qua in alto a destra è il primo tocco fatto dal giocatore della Juventus sull'assist a Ken, questo qua è il primo tocco, questo in basso a sinistra è dalla visuale laterale il primo tocco, questo qui da destra, in basso a destra, è quello dove il pallone si è staccato dal piede ed è stato quello preso in considerazione dalla sistema. Penso che l'hai capita, no? E allora il sistema questa volta non ha funzionato, perché il momento in cui Frattesi tocca il pallone dà la palla a Turam è questo qua. Qui si sposta leggermente il pallone. Vedete già la posizione di Turam che oltre ogni giocatore è a differenza tra questa immagine e quella che ci hanno portato loro è letteralmente immensa, immensa. Una differenza che non finisce mai, ragazzi. Qua c'ha le gambe in un modo, qua c'ha le gambe in un altro modo. Però, giustamente, quale è stata presa in considerazione da parte dei Varissi? Naturalmente, quella del sistema. Ma non il sistema che dice quella dove il pallone si stacca o l'ultimo tocco, o come è stato per la Juventus, no? Il sistema che dice, eh, noi tre punti dobbiamo portare a casa. C'è Marotta che ci guarda. Ci sono addirittura gli addetti ai lavori di OAK3 che sono venuti a vedere la partita. Non possiamo, non possiamo partire con una sconfitta. E allora che cosa si fa? Si dà il gol. Si dà il gol. Però l'avete visto anche voi. Ve l'ho portato con le immagini, non potete negare, non potete insultare, non potete fare nulla. Ricordo, per quel che riguarda la Juventus, qua. Per quel che riguarda l'Inter, qua. Nella realtà è qua. Adesso è troppo avanti, ragazzi. Si è spostato avanti prima molto probabilmente toccando qualcosa. Adesso è troppo avanti. Comunque, l'avete visto prima, ragazzi. Non ce la faccio più a rimetterlo dove era prima. Potevano prendere anche questa, volendo. Volendo potranno prendere anche questa. Naturalmente è un fermo immagine, devi mettere la velocità a 0.25 per poter riuscire a fermare l'immagine nel momento in cui il pallone, il piede tocca il pallone e il pallone si sposta un po', così come hanno fatto con la Juventus. In quel caso, l'avete vista, chiara, chiara, chiara. La posizione era di offside. Ma non finisce qui. Non finisce qui perché l'Inter vinceva in quel momento 2-1. Succede una cosa in area di rigore, un tocco di mano. Ricordiamo la punizione data al limite dell'aria a favore dell'Inter per un tiro ravvicinato che ha colpito il difensore della Genoa. L'arbitro ha visto immediatamente fallo fuori aria, dato il fallo fuori aria. Per qualche riguardo invece il calcio di rigore contro l'Inter stranamente non lo ha visto. È dovuto andare a rivederlo al VAR per poterlo assegnare. Ma dove era piazzato il nostro Feliciani? Che non sarà tanto Feliciani perché sicuramente arriverà la telefonata di Don Beppino che dirà non mi siete piaciuti e farete la fine di chi era quello che adesso si è dimesso, si è dimesso, è andato in pensione. Che per un cartellino giallo, scusate adesso c'è un piccolo lapsus, per un cartellino giallo non dato, ha smesso di arbitrare. Inter e Juventus. Guardate dov'è l'arbitro nella situazione del calcio di rigore. Siete pronti? Qui c'è il tocco di mano. Poppetè! E qui c'è l'arbitro ragazzi. Incredibile! Sì e no dieci metri di distanza. Si vede benissimo che la tocca col braccio. Ma lui il calcio di rigore non lo dà e ricordatevi la regola perché la regola dice che se l'arbitro non vede il calcio di rigore il VAR non può intervenire fino a quando la palla non esce. Ma se in quel momento la palla era nei piedi del Genova come fu e il Genova perde palla e l'Inter va a fare un contropiede, indovina un po'? Il VAR non può intervenire più ma anche se l'Inter non fa il contropiede basta solo che il Genova perdeva la palla in questo caso c'è stato un calcio d'angolo quindi la palla è andata fuori. Ma se il Genova avesse perduto la palla e loro si fossero messi a giocare a centrocampo e poi gli facevano un'azione dove anche perdevano il pallone quelli dell'Inter il VAR non poteva intervenire più. La partita sarebbe finita 2-1. Ragazzi tutto questo è incredibile. È vero che ieri il VAR in tante occasioni si è comportato bene perché è sotto controllo è sotto gli occhi di tutti. Tutti gli occhi riflettori sono puntati contro di loro grazie alla guerra che hanno fatto tutti quei youtubers con 100-200 mila iscritti che portano continuamente notizie del modus operandi dell'informazione dobbiamo ringraziarli tutti questi personaggi che sono dei grandi youtuber noi invece siamo dei pagliacci piccoli stronzi che parliamo solo di cose che non interessano a nessuno anche perché attenzione attenzione come disse l'omino di youtube io non voglio parlare di complotti perché se dovessi pensare che c'è un complotto con gli arbitri per il fotogramma non guarderei più il calcio. È un po' come variale che ti viene a dire ma guarda non posso credere che mia moglie mi fa le corna perché altrimenti dovrei lasciarla quindi preferisco non crederle. Torno a casa vedo mia moglie con un altro ma posso stanno pulendo stanno pulendo ma guarda che quello lì ti ha bombato la moglie no ma che stai dicendo non posso credere che mia moglie mi faccia le corna altrimenti che ci sto a fare con lei forse perché o sei un imbecille non riesci a vedere non riesci a capire oppure perché ti fa comodo eh ti fa comodo perché in qualche modo mi cucina mi lava mi stende mi stira io adesso non so fare un cazzo è la stessa cosa ecco youtube e vabbè lasciamola lì eh non è un complotto che dite che complotto che sennò io non posso più fare i video contro Allegri contro Agnelli contro Nedved adesso contro Motta ragazzi eh cioè dico quale complotto eh anche Mariale lo diceva mia moglie è una santa sono gli altri che sono cornuti vi ricordate quello dell'hotel eufemia la botta è il cornuto quello che gli metteva le corna a lui era lui il cornuto cioè questo è il ragionamento no dell'omino di di youtube e di tutti quelli che ancora non vogliono vedere la realtà ragazzi la realtà è questa è semplice aprite gli occhi lo so che non si guadagna tanto se aprite gli occhi se non si lecca abbastanza non si fa il saltino di qualità però c'è la gente che vi segue lo stesso perché c'è gente come me come voi come tanti che sono stufi di vedere questa cosa e non vogliono più fare il ragionamento ma io non voglio pensare al complotto no io penso al complotto io penso al marcio perché me lo avete dimostrato in un anno e mezzo in questo canale ragazzi non ho mai mai portato due volte lo stesso video due volte la stessa notizia perché se io avessi portato più volte la stessa notizia avrei fatto 60 miliardi di video ronaldo iuliano hanno fatto 150 milioni di video noi per quel che riguarda leon rock al 31% ogni tanto lo ricordiamo ma un video solo ho fatto un video solo per quel che riguarda i debiti dell'inter un video ogni tanto lo ricordo ma sempre un video per quel che riguarda Lautaro Martinez un video vi ricordate condannato nel penale un video per ronaldo e quando si parlava di ronaldo stupratore oh la madonna cazzo tutti erano diventati registi addirittura facevano i video con le riprese la luce il complotto c'è ragazzi ve l'ho dimostrato in questo video condividetelo e se avete la corna svegliatevi rapite l'occhio e cambiate vita hai capito? o te la devo spiegare o te la devo spiegare